Marcello Iannacone, è un pareggio che sta stretto al San Marco dell'Ais, loro alla fine hanno fatto due conclusioni, invece la tua squadra, soprattutto nel primo tempo, forse doveva chiudere Marcello, forse è lì che il San Marco ha perso questi tre punti probabilmente. Sono d'accordo, dopo il vantaggio abbiamo avuto delle buone opportunità, pur non avendo approcciato bene i primi dieci minuti sotto tono, i ragazzi erano tesi, la partita aveva un'importanza rilevante, forse è stata sentita troppo, però dopo una decina di minuti abbiamo iniziato a giocare. Dopo il vantaggio si poteva chiudere, ma questo è un limite che ci portiamo dall'inizio, a volte la superità numerica va sfruttata, però siamo imprecisi, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla e poi dopo ci hanno pareggiato, addirittura sono passati in vantaggio e poi alla fine siamo stati bravi a recuperarla, per fortuna a meno un pari. Non c'era il butto è parlare degli arbitri, però c'era un vigore clamoroso nel primo tempo e il loro vantaggio è stato viziato da un fallo che è stato ad un metro dalla sua posizione, questa è la cosa che brucia. Brucia, è così, il calcio è questo, gli episodi a volte determinano l'inerzia di una gara, questa volta sono andati così e li accettiamo, non possiamo che accettare il verdetto del campo, fare polemiche non serve a niente perché ormai il rigore non è stato dato, il fallo non è stato fischiato, per cui ci prendiamo il risultato, bisogna fare qualcosa in più e lo dobbiamo trovare in noi, per cui è inutile parlare di arbitri. Comunque c'è una squadra che lotta fino all'ultimo minuto, c'è il l'avente Salerno che lotta come un ventenne, possiamo dire che il San Marco c'è in questa finale di stagione per la migliore posizione dei tre auti? Ci siamo e ci saremo, è chiaro, continueremo a lavorare fino all'ultimo istante con serenità, concentrati, attenti perché alla fine qualunque sarà il risultato non ci dobbiamo rimproverare niente. I ragazzi lo fanno dal 7 agosto, sono meravigliosi ma non devono dimostrarlo né a me né a nessuno l'attaccamento che hanno per questa maglia, su questo dobbiamo puntare. Abbiamo sempre puntato da anni su questi ragazzi che hanno fatto la storia dell'ASD San Marco e continueremo a puntare su di loro perché ci daranno ancora delle soddisfazioni. Grazie Matteo. Grazie a te.